Lo dico da madre, chiaramente, non da persona estranea a certe dinamiche. Non abbiamo noi stessi gli strumenti per abituarli a convivere con questa emozione che è la noia. Lei che cosa ne pensa? Deriva anche un po' dal nostro atteggiamento, quindi quello di noi genitori. Assolutamente sì, oggi viviamo in un mondo estremamente performante, per cui se non sei sempre sul pezzo e raggiungi sempre obiettivi altissimi, guarda quello che succede. Proprio ieri il telegiornale ha detto che una madre ha rotto il naso ad un coach del ragazzino durante una partita perché secondo lei questo coach non aveva saputo sostenere adeguatamente il figlio. Quindi arriviamo a delle situazioni, a mio avviso, di psicopatologia. Cioè i bambini dobbiamo smettere di pensare di essere performanti, dobbiamo smettere di pensare per gli adulti e per noi, cioè voi genitori di bambini, ora io figli grandi. Ma nella vita si sbaglia, nella vita si cade, nella vita si fanno errori, nella vita si commettono anche delle situazioni di cui talvolta ci si può vergognare. Facciamo dei percorsi pensando che sono giustissimi per noi, poi ci rendiamo conto che non era la nostra strada. Cadere, cadere, anche quello è un atteggiamento psicologico importante. Educhiamo i nostri figli a cadere e educhiamoli bene a rialzarci. Non importa se non si vince una gara, se non si raggiunge un obiettivo, perché la vita è anche saper accettare la sconfitta e rendere la sconfitta un'altra opportunità per fare di più, per fare meglio. Ma essere perforanti per definizione è antipsicologico. Fa male alla salute emotiva del bambino o anche dell'adulto, o del bambino che è cresciuto come un super performante che poi da adulto diventa un poveretto. Al primo fallimento professionale o al primo problema matrimoniale ci divorziamo o cade in depressione perché non ha gli strumenti psicologici per rialzarsi da solo. Assolutamente. Mentre lei parlava...